Perché Grande Fratello non è andato in onda, ecco la verità e quando ritorna Salta la puntata del Grande Fratello 2018 di ieri 7 maggio, ecco perché e quando sarà in onda I telespettatori del Grande Fratello 2018 si stanno chiedendo ancora come mai ieri sera non sia stata trasmessa in diretta a tv la quarta puntata del reality show condotto da Barbara Durso Coloro che ieri 7 maggio hanno avuto modo di collegarsi alle 21.30 sulla rete ammiraglia del Biscione hanno avuto modo di scoprire che al posto della quarta puntata del reality show era in onda un film della saga di Star Wars in prima visione assoluta Ecco la verità sul Grande Fratello 2018 e la nuova programmazione Un cambio programmazione che ha un po' spiazzato gli spettatori abituali del Grande Fratello, dato che la scorsa settimana durante la puntata in diretta, Barbara Durso non aveva annunciato questo cambio palinsesto per il reality show giunto alla su quindicesima edizione di Messa in Onda Cos'è successo allora e soprattutto quando ritorna in onda il GF 15 su Canale 5? Le anticipazioni ufficiali rivelano che in realtà la messa in onda del reality show di lunedì era soltanto una sistemazione provvisoria, dato che di martedì dovevano andare in onda le partite di Champions League Ecco allora che archiviata la fase delle semifinali di Champions, il reality show torna alla sua collocazione originaria, vale a dire il martedì sera Questo vuol dire che la quarta puntata del Grande Fratello di questa settimana verrà trasmessa stasera 8 maggio in diretta televisiva su Canale 5 e potrà essere seguita anche in streaming sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Luigi Favoloso minaccia di lasciare il GF 15. Nessuna sospensione e nessuna cancellazione dal palinsesto, così come si era vocifiato in queste ore sul web e sui social Semplicemente il Grande Fratello ha cambiato nuovamente giorno di programmazione anche se questa volta il martedì sarà il giorno ufficiale, dato che fino alla fine di questa edizione non sono previsti ulteriori cambi di palinsesto e quindi tutte le restanti puntate andranno in onda sempre di martedì sera Intanto possiamo svelarvi che anche in questo quarto appuntamento con il reality show di Barbara D'Urso ci saranno un bel po' di episodi da affrontare, in primis la rissa notturna avvenuta tra Luigi Favoloso e Mariana, al termine della quale abbiamo visto che l'ex fidanzato di Nina Morick si è tolto il microfono e ha minacciato di voler andare via dalla casa Lo avrà fatto per davvero oppure ha messo in scena l'ennesima commedia dell'arte? Lo scopriremo nel corso della diretta di oggi